Io centro Assocom. Anche per questo Natale particolare dà vita ad una iniziativa significativa finalizzata a sensibilizzare i cittadini e le comunità ad acquistare nelle attività commerciali del territorio. A tal fine hanno voluto mettere in campo un servizio in più che favorisce lo shopping natalizio, evitando file ed assembramenti e potendo così ricevere quanto ordinato direttamente a casa. L'iniziativa nasce per evitare la paura delle persone, nel senso che stiamo cercando con questa iniziativa di evitare assembramenti davanti alle attività commerciali dovute al numero limitato di persone che possono essere all'interno di ogni negozio come previsto dalla normativa anti-covid. L'iniziativa nasce soprattutto per dare uno stimolo, per dare un segnale anche forte che il commercio a sala è in piena attività, in più è un servizio che offriamo gratuitamente e in più vogliamo anche coccolare il cliente per farlo sentire sempre di più come se fosse a casa sua. Per quanto riguarda la possibilità di acquisto si può svolgere in diversi modi, recandosi nei nostri negozi come si è sempre fatto oppure, visto il periodo in cui viviamo, anche attraverso i canali dei social o chi gestisce già direttamente delle pagine con dei veri e propri prodotti. Basta scegliere il prodotto che si vuole acquistare e farlo sapere al negoziante tramite i canali telematici oppure recandosi direttamente presso l'attività commerciale. Saluto i telespettatori e i nostri clienti perché sono sempre molto affezionati e vicini alla libreria Mondadori. Infatti invito i nostri clienti ad usufruire di questo nuovo servizio che stiamo dando come associazione Io Centro, ASSOCOM, che comunque permette di non creare assemblamenti nei negozi ma di ricevere i propri regali oppure i propri acquisti direttamente a casa e aiutare soprattutto i negozi di vicinato nell'acquisto e evitando di acquistare su internet perché comunque proprio per una ripresa del commercio c'è bisogno di acquistare nel proprio paese per far ripartire l'economia. Il commercio a sala è una cosa non importante ma importantissima. Tantissima gente vive di commercio e di attività artigianali. Noi dobbiamo ringraziare tutti questi commercianti e tutte le associazioni Io Centro che anziché piangersi addosso si rimboccano le maniche, vivono il presente e cercano di ripartire non pensando sempre al passato, a quanto era bello il passato ma cercando di dare delle risposte concrete alla situazione attuale andando verso il futuro dando delle soluzioni innovative anche al commercio perché i tempi sono cambiati e siccome sono cambiati i tempi le risposte devono essere anche differenti rispetto a prima.